eccoci allora benvenuti buonasera a tutti buonasera eccoci qua alessandro cesare chi non ci conosce sono alessandro e luca fondatore qua è cesare il nostro super ceo e lui che manda avanti vabbè sì io ceo chiamati come vuoi e lui che manda avanti tutta la baracca poche parole e lui si prende merito io mi prendo gli insulti e va bene cosa facciamo insieme alle persone a rendersi indipendenti dal sistema per chi non lo sappia sussaiare fondamentali quindi insieme alle persone a rendersi autosufficienti in termini alimentari energetici economici cosa di cui parliamo questa sera insieme alle persone ad autoprodursi saponi detersivi e tutto quello che serve per la propria igiene e salute personale più tutta la parte di preparazione quindi conoscenza e stoccaggio scorte via dicendo e tutta la parte poi di abilità di sopravvivenza quindi come fare fuoco acqua equipaggiamento orientamento e tutto ciò che riguarda tecniche militari che vengono insegnate proprio della nostra scuola di formazione da un ex militare di livello anche molto alto allora come state come state fateci sapere se si sente si vede correttamente se funziona tutto bene grazie mille così possiamo continuare con quello che abbiamo da dire poi abbiamo fatto anche una bella cenetta questa sera ci siamo trattati anche molto bene ci sarei anche bevuto quindi scherzo scherzo noi siamo gente per bene in realtà se magari qualcuno ci facesse sapere se si ... sì 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 tutto ok asisto allora parliamo di dipendenza economica non abbiamo preparato assolutamente niente quindi se avete qualche domanda sui soldi su come si fanno e soldi su cosa significa fare soldi se è giusto fare soldi cosa pensate dei soldi su il processo che ti permette di arrivare a fare soldi tutte queste cose qua si 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 sente bene vai a salutarci grazie mille di qua abbiamo instagram di qua abbiamo facebook youtube esatto quindi se avete qualche domanda sui soldi cosa pensate dei soldi a proposito abbiamo fatto una storia poco fa su instagram io non avrei domande falle pure per rispondere un po' di domande su questo argomento fanne qualcuna ci divertiamo siamo quei 20-30 minuti quello che c'è bisogno e rispondiamo a tutto esattamente poi facciamo capire un po' di cose su come il sistema in realtà invece ci vuole tenere poveri che attenzione facciamo subito un disclaimer su questo chiaramente quando parlo di poveri non intendo le povere persone che purtroppo non hanno niente che non possono permettersi neanche un telefono per guardare questa diretta quindi quelle ovviamente sono persone che vanno aiutate noi le aiutiamo doniamo tantissimo sia con l'azienda sia noi personalmente almeno personalmente ma anche Cesare fa delle donazioni sue personali e quindi chiaramente quello è tutto un altro discorso e quello è anche uno dei dei bug creati dal sistema nelle nostre menti per farci credere che le persone magari che hanno pochi soldi e o comunque sono allo stesso livello di quelle che non hanno assolutamente niente dall'altra parte del mondo e devono anzi ringraziare e basta che loro possono permetterci determinate cose in realtà quello è tutto ciò che dipende dalla fortuna di essere nati in un paese sviluppato anziché in uno non sviluppato e basta poi non c'è nessun altro ringraziamento speciale al sistema che dovremmo fare allora eccoci qua ci sono delle fattorie delle quali per tre mesi posso fare del tirocino ok non so se hai una domanda Salvatore o se mi chiedi cosa ne penso allora ne penso bene e male su fare tirocino in fattorie o aziende perché ne penso bene e male allora per quanto riguarda il bene ne penso bene perché l'esperienza fa sempre comodo quindi si imparano cose sul campo cose pratiche che magari da soli non abbiamo l'opportunità di fare vogliamo fare esperienze di quel tipo ciao Massimo grandissimo e si fanno esperienze importanti magari insomma pratiche e quindi assolutamente da quel punto di vista tutto ok perché magari non si possono fare personalmente vi dicendo quindi per quella roba lì c'è tutto da guadagnare però ne penso anche male perché perché purtroppo spesso poi magari se qualcuno si va in una fattoria di qualche nostro studente magari o qualcosa del genere ti va bene ma se no in genere magari si va in fattoria e porta davanti da agricoltori che purtroppo non hanno idea di come si manda avanti una baracca imprenditoriale non hanno idea di come si faccia veramente profitto con un'attività mentre sicuramente se tu vuoi costruire un'attività di quel tipo è perché puoi farci profitto non soltanto per passione personale perché uno dei miei mentori che adesso purtroppo è molto anziano ciao grandissimo e dice una cosa cosa faresti gratuitamente come risponde anche tu è interessante perché dice starei sull'amaga starei in piscina andrei a cavallo guarderei la televisione nessuno ti paga per vederti fare quelle cose esattamente quindi tutto il resto uno se la può raccontare con la finta etica col finto moralismo con quel che gli pare ma le cose si fanno per soldi poi chiaramente non solo ovviamente e c'è anche una parte di passione per esempio chi è che mi farebbe fare se no a me di continuare a portare avanti in un'azienda con 12 collaboratori tutto lo stress che richiede questa roba qua eccetera eccetera se non ci fosse anche della passione non mi piacerebbe insegnare io per esempio da piccolo uno dei miei sogni da piccolo era quello di fare il professore mi piaceva fare il professore perché sapevo di saper costruire metodi di insegnamento efficaci sapevo di riuscire a schematizzare bene le cose sapevo di trasmetterle bene e via dicendo e quindi era una cosa che mi piaceva poi in realtà ho capito che si poteva ottenere l'indipendenza economica non facendo il professore principalmente ma costruendo un'azienda di formazione nel mio caso e quindi ho scelto quella via e soprattutto poi mi piaceva anche la parte agricola e quindi l'ho fatto nel mondo agricolo e soprattutto sono partito da un'azienda agricola perché ritenevo assolutamente necessario in primis avere l'esperienza diretta per poter poi insegnare determinate cose alle persone questo per riassumere e quindi dicevo purtroppo la parte male della domanda che faceva Salvatore è questa cioè fare tirocino in una fattoria ok va bene però attenzione a non farci trasmettere tutte le credenze limitanti dall'agricoltore in questione perché purtroppo possiamo soltanto apprendere quello che riusciamo ad apprendere dal punto di vista pratico ma 99 su 100 vi straconsiglio di lasciar perdere tutto ciò che vi viene trasmesso da agricoltori che non hanno successo in ambito agricolo determinati insegnamenti dal punto di vista imprenditoriale perché vi passeranno solo esclusivamente credenze limitanti sarò cattivo a dire queste cose ma io come sapete chi mi segue da tempo dico le cose come stanno senza tanti fronzoli perché è così secondo me che si può far capire alle persone come funzionano le cose e come si possono ottenere risultati poi c'erano altre domande allora eccoci su come imparare ad acquisire la mentalità dell'agricoltore allora ok ottima domanda perché intanto ti correggo tu non devi acquisire la mentalità dell'agricoltore se vuoi fare l'imprenditore agricolo cioè se tu vuoi aprire un'azienda avviare un'azienda far crescere un'azienda vendere i tuoi prodotti e fare profitto con la tua azienda agricola tu devi acquisire la mentalità dell'imprenditore e la tua domanda non è stupida ok è giustissima ma fa capire perfettamente quello che io spiego da tempo nei miei corsi e via dicendo di come chi si approccia al mondo agricolo e vuole costruire un'azienda agricola pensa di essere un agricoltore in realtà l'agricoltore è quello che lavora il campo e basta ok mentre se uno fa azienda è anche un imprenditore soprattutto la traiettoria deve essere quella di fare principalmente l'imprenditore io per esempio la mia azienda agricola è completamente delegata cioè non faccio io cose personalmente in campo perlomeno nell'ultimo anno non ho fatto praticamente quasi nulla se non andare a controllare fare un po' di cose perché mi piace comunque ho passione quindi qualche domenica con Vale e anche con con Cesare e con gli altri membri del nostro team ci siamo divertiti in campo ma in realtà l'azienda la porta avanti da imprenditore e come dico sempre anche qua fare gli imprenditori parte dall'acquisire la giusta mentalità e sicuramente non si diventa imprenditori prendendo la certificazione IAP essere IAP o fare il corso IAP e anche qua non fatevi che è partito Siri qua non fatevi traviare la mente da da chi vi dice che dovete fare il corso IAP da 800 euro e cose del genere non buttate quei soldi in quel modo investiteli nella nostra azienda di formazione che comprate corsi che vi danno veramente le informazioni necessarie per fare da imprenditori agricoli e non per essere solamente IAP che oltretutto non ve lo dicono ma quando si avvia un'azienda agricola e si apre una partita IVA e ci si iscrive all'Inps si diventa automaticamente IAP provvisori e poi dopo due anni addirittura si diventa anche subito automaticamente imprenditori agricoli professionali permanenti insomma come sia IAP provvisori IAP definitivi IAP definitivo oppure se si vuole diventarlo prima dei due anni si fa un piccolissimo esame davanti a una commissione che ti chiede che cosa coltivi e cosa farai e costa 16 euro praticamente la marca da bollo e basta il corsettino di 4 ore 8 ore che si fa non costa niente invece tante persone cascano in questo tranello perché purtroppo anche bloghettini vari o cose del genere non sapendo le cose ma dovendo scrivere qualcosa tirano fuori informazioni sul mondo delle aziende agricole dicendo che la prima cosa da fare per essere aperti a appiare un'azienda agricola è iscriversi allo IAP no la prima cosa che bisogna fare per appiare un'azienda agricola è formarsi su come si costruisce un'azienda agricola di successo questa è la prima cosa che si dovrebbe fare quindi come acquisire la giusta mentalità da imprenditore è formandosi da qualcuno che l'ha già fatto e cercare di replicare quello che questa persona vi dice come in questo caso sono io ma non lo dico perché è proprio così che si fa ve lo posso assicurare anche la strada esattamente che ho seguito io quindi ho seguito imprenditori tanti di diverse tipologie di diversi settori vi dicendo per capire come si facesse l'imprenditore perché io per esempio vengo da una famiglia dove né mio padre né mia madre lo erano e non c'era nessuno che potesse insegnare veramente le abilità imprenditoriali necessarie a costruire un'azienda perché non è così banale come sembra poi le capacità tecniche di coltivazione chiaramente vanno imparate ma esula diciamo dal discorso mentalità quindi si fa ascoltando quello che vi dice una persona che l'ha fatto quindi ragazzi se io vi dico che esempio una delle cose che bisogna fare visto che stasera stiamo parlando di indipendenza economica per avviare un'azienda agricola di successo bisogna cambiare la propria mentalità relativa al denaro quindi bisogna cominciare a capire che il denaro non è il male supremo il denaro è semplicemente uno strumento seppur iperpotente via dicendo ma non è il male avere soldi essere ricchi o trattarsi bene per esempio noi siamo in un 5 stelle dove comunque ci trattano benissimo e via dicendo e stiamo bene riusciamo a stare qua tranquillamente perché siamo qua per lavoro e quindi molto affaticati cioè noi ora qua sono mezzanotte e mezzo da noi e considerate che oggi pomeriggio eravamo a fare un'intervista via dicendo quindi eravamo siamo stati al lavoro comunque tutto il giorno da venerdì non l'abbiamo staccato mai mai ma da giovedì anche praticamente poi mercoledì tra mercoledì giovedì e venerdì abbiamo dormito penso tipo 10 ore in 3 giorni quindi ci stiamo facendo abbastanza il culo costantemente e non è che quindi ah se uno va in 5 stelle non lo so è un riccone strano cose del genere no è perché si vuole trattare bene perché così mi sono fatto il culo da 10 anni per potermi permettere 5 stelle mi piace andarci non ho neanche troppi vizi nella mia vita in realtà vivo nel mio casale in campagna con vale con i nostri cani animali ci piace stare lì il nostro pollaio tutte le nostre cose però quando viaggio per esempio voglio essere comodo e non credo che ci sia nulla di male assolutamente e sono sicuro che non ci sia niente di male se però abbiamo una mentalità relativa al denaro completamente sbagliata dove crediamo che queste cose siano da ricchi strani o cose del genere ecco questa è una delle prime cose che bisogna cambiare e invece cercare di capire che avere soldi di avere più soldi comunque per noi stessi per il nostro bene per la sicurezza di noi stessi della nostra famiglia per poter fare del bene quindi fare donazioni e via dicendo la mia azienda se continua a far soldi mi permette di assumere sempre più persone eccetera 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 chiaramente queste cose qua non hanno nulla a che vedere con il fatto che i soldi siano il male yes e ancora molti non lo capiscono allora ciao Francesco poi guarda adesso ci sono altre domande abbiamo risposto a quelle che erano sopra perché poi hanno richiesto nuovamente la differenza tra agricoltore e imprenditore ma penso l'abbiamo spiegata molto bene sì poi lo posso anche rispiegare al volo per far capire bene il concetto cioè l'agricoltore è la persona che lavora cioè se io ho una mentalità da agricoltore io sono uno che si preoccupa di coltivare bene un terreno e oltretutto gli agricoltori in generale non lo fanno perché disintegrano i terreni perché non si formano neanche lì perché sì come si fa a formarsi in agricoltura ci mancherebbe e quindi hanno il focus l'agricoltore deve avere il focus su coltivare la terra renderla sempre più fertile ottenere prodotto nelle giuste quantità e soprattutto con una qualità altissima che possa poi essere pronto per la parte di vendita l'agricoltore fa quello l'imprenditore invece trova un mercato a cui vendere i propri prodotti che possono anche essere non coltivati da lui e venderglielo al giusto prezzo per far sì che l'azienda abbia abbastanza profitto per poter crescere e per poter crescere senza che l'imprenditore debba fare niente all'interno dell'azienda questa è una differenza non da poco favorevoli o contrari al sovescio nell'uliveto favorevoli assolutamente l'importante è che non si faccia sovesci prima arando il terreno con aratri ribaltanti che noi siamo assolutamente esatto è inutilissimo che noi siamo assolutamente contro aratri ribaltanti frese e cose del genere ci sono una marea di altri strumenti che si possono utilizzare ma il sistema chiaramente non li fa conoscere e continua a spingere le persone a comprare trattori sempre più grandi per renderli dipendenti dall'acquisto di strumenti e fertilizzanti ma davvero si può portare avanti il vostro business agricolo anche se si ha un appartamento senza giardino e senza terrazzo certo assolutamente dipende anche quello che vuoi fare chiaramente Vincenzo non so se vuoi dirmi anche qual era un attimino la tua idea ti do delle informazioni anche più specifiche ma per farti un esempio se ora mi parli di autoproduzione è un conto però ora mi parlo di business agricolo quindi addirittura quello che potrei fare io per esempio avendo doti imprenditoriali e avendoli sviluppati negli anni potrei anche vivere in una casa senza terrazzo senza giardino senza niente e acquisire per esempio ok potresti o intanto ovviamente affittare un terreno e quindi lavorare affittando un terreno che si affittano veramente con pochissimo o affitti un terreno per esempio in seminativo e quindi poi ci vai a mettere tu delle coltivazioni principalmente se hai in affitto e non hai l'obiettivo di acquistarlo quel tipo di terreno si mettono coltivazioni non permanenti per esempio la migliore di tutti è lo zafferano e anche questo è il motivo per cui l'ho scelta io come mia prima coltivazione perché i bulbi sono bulbi che oltretutto ti rimangono come patrimonio personale che puoi rivendere e che non rimangono per sempre nel terreno quindi puoi portarli via quando ti sposterai quindi puoi prendere un terreno in affitto seminativo e coltivarci cose non permanenti oppure addirittura prendere in affitto terreni che hanno già vigneti oliveti o quello che vuoi e via dicendo si prendono veramente con pochissimi soldi c'è anche Antonio De Masi che è il nostro coach ufficiale lui è partito come il nostro cliente un po' di anni fa per avviare la sua azienda agricola e addirittura tipo il suo oliveto in affitto lo paga roba come un paio di centinaia d'euro all'anno niente praticamente e quindi prendi in affitto questo terreno lo coltivi nella maniera corretta e poi fai tutta la parte principalmente imprenditoriale addirittura ti dico quello che farei nella mia posizione avendoci comunque del capitale che mi sono costruito nel tempo gli acquisirei fondamentalmente un'azienda agricola messa male gli direi come devono coltivare tutte le cose nella maniera corretta come dico io se non gli sta bene cambio impiegati per esempio e poi faccio tutta la parte di faccio fare anche quella in realtà quindi mi acquisisco prendo una persona che mi si occupa di tutta la parte marketing e gli faccio fare tutta la parte di marketing per vendere il prodotto al giusto prezzo e quello magari è il massimo che potrei fare io se scegliessi come target di mercato e ristoranti di lusso e andare a fare la vendita direttamente visto che è una cosa che mi riesce bene con gli chef che è una cosa che anche mi piace oppure prenderei un venditore che mi vada a fare la vendita sui ristoranti quindi di cose che si possono fare ci sono tantissime anche senza avere giardino terrazzo quello che è perché si possono prendere in affitto altre cose o addirittura non avendoci niente ma prendendo anche per esempio fai un accordo con un'azienda agricola dove per partire dici guarda ci penso io alla vendita dei tuoi prodotti ci penso io alla vendita dei tuoi prodotti tu hai studi marketing magari studiando vendita strategica o guide pratiche alle strategie di vendita che sono due dei nostri videocorsi impari come si vendono i prodotti agricoli sul mercato al giusto prezzo e gli dici guarda io ti vendo i tuoi prodotti mi prendo una percentuale che può essere del 20-30% e via dicendo e vai a fare la 20 e ti sta creando una tua entrata secondaria zafferano oppure beh ci possono essere tantissime tantissime altre possibilità potresti fare ortaggi anche per esempio che sono anche quelli non permanenti ma addirittura anche elicicoltura che comunque sono strutture che poi si possono spostare senza nessun tipo di problema si possono coltivare piccoli frutti in vaso perché comunque si ha siccome i piccoli frutti sono abbastanza delicati e vi dicendo hanno delle necessità importanti in vaso ti permette di poter controllare bene il substrato e quindi puoi fare coltivazione di piccoli frutti in vaso puoi fare anche coltivazioni di frutteti in vaso ci sono i frutti antichi nani che sono una cosa molto interessante non le conoscono molte persone ma danno dei frutti di altissima qualità e quindi si possono fare cose di quel tipo si può prendere un terreno e affittarlo per esempio per eventi e cose del genere ci si possono mettere delle strutture agrituristiche mobili per esempio e quindi si può avviare anche un'attività di quel tipo cioè vedi di esempi ce ne sono veramente tantissimi che potrei fare intanto rinnoviamo visto che stanno entrando tante persone di fare domande chiunque si si fate domande siamo qua per rispondere a un po' di domande e principalmente stasera parliamo di indipendenza economica quindi se avete domande sul denaro sui soldi su come si fa un'azienda su queste cose qua vendita marketing vendita marketing abbiamo anche Cesare che è super esperto quindi ciao ragazzi ciao ciao Samuele niente figurati Vincenzo poi Pasquale io sono un produttore di asparagi come siamo messi su questo settore su questo prodotto sì anche qua è un prodotto molto molto interessante che chiaramente va in produzione non proprio al primo anno ma poi ti dà comunque una rendita per molto tempo senza un reinvestimento in sementi insomma in piantine di asparagi abbiamo un cliente che li coltiva con molto successo forse anche più di uno io ne conosco uno perché è venuto in consulenza privata con noi poi gli altri che hanno preso magari corsi e basta io non conosco magari possono esserci anche altri e anche a lui gli sta andando molto bene quindi sì è un settore che lo vedo assolutamente è un prodotto un settore chiaramente che vedo sicuramente molto molto bene e quindi assolutamente ma in realtà una delle cose che io dico da sempre è il fatto di non concentrarsi neanche troppo su quale prodotto non significa che sbagliate la tua domanda eh va benissimo però attenzione anche qui è un discorso di mentalità ok perché dici devo trovare il prodotto giusto che si venda bene in realtà il ragionamento è inverso intanto devo trovare il mercato giusto poi si pensa al prodotto però in agricoltura il vantaggio del business agricolo cosa che ovviamente il sistema non fa comprendere le persone perché fa credere che sia solo fatica e tutte queste cose qua eccetera ma in realtà è un settore iper interessante uno perché si lavora sull'asset più importante di tutti che in tempo di crisi e in qualunque che ci sarà e continuerà ad esserci per tanto tempo e anzi siamo in situazioni abbastanza pericolose preoccupanti non so se avete visto anche l'ultima posizione presa dalla Nato ma oggi stasera parliamo di indipendenza economica lasciamo perdere questi discorsi però insomma la situazione è abbastanza preoccupante da quel punto di vista e quello che dico sempre dico è che essendo un business iper profittevole perché si lavora sull'asset più importante di tutti che è il cibo e che quindi in tempo di qualunque tipologia di crisi noi abbiamo cibo per noi stessi e per la nostra famiglia ma in più è chiaramente un qualcosa per cui ci sarà sempre mercato perché sia che le cose vanno bene nel mondo sia che le cose vanno male nel mondo il cibo sarà sempre di qualcosa sarà sempre qualcosa di richiesto e quindi ci sarà sempre un mercato pronto ad acquisire il nostro cibo e questo non è scontato perché ci sono mercati che in realtà muoiono ci sono aziende che falliscono perché non c'è più un mercato per quei prodotti invece per il cibo non è possibile che succeda e questo non è un vantaggio da poco è per questo che le grandi anche multinazionali e vi dicendo acquisiscono aziende agricole perché lo fanno perché sanno di avere un patrimonio sicuro un patrimonio stabile io per esempio cioè queste cose vanno capite chi è un imprenditore che nota queste cose e capisce il perché si rende conto del fatto che l'agricoltura è un business estremamente stabile e soprattutto è un business multimiliardario non a caso quindi non è ragionare tanto sul prodotto ma sulle competenze imprenditoriali e di vendita che bisogna avere per poi saper vendere quei prodotti perché altrimenti molti agricoltori fanno l'errore di cercare il prodotto che si vende ma se ci pensiamo diciamo etimologicamente che significa il prodotto che si vende cioè non è che si venderà da solo un prodotto ci dovrà sempre essere un'azione di marketing per trovare il mercato giusto e dirgli oh guarda tu hai questo bisogno questo problema e via dicendo io con il mio prodotto te lo risolvo quindi acquistalo inoltre il mio è il migliore perché questo questo e questo partendo sempre dal presupposto appunto che ci sia un mercato esatto e come dicevo in agricoltura siamo avvantaggiati perché è praticamente impossibile non non trovare un mercato per il cibo perché tutte le persone mangiano e e quindi ecco è questo qua il discorso cioè focalizzarsi su come vendere come costruire un'azienda agricola profittevole più che sul prodotto giusto da coltivare poi ci sono delle cose ovviamente legate al alla zona al clima e via dicendo e bisogna ragionare più su quello che sul prodotto giusto perché internet mi dice che si vende o perché ora va di moda allora un attimo sono arrivate diverse domande tutti insieme partirei poi Cesare se vuoi rispondere anche te a qualcuno sì sì infatti ora vediamo allora guarda rispondo a questa poi ti faccio passare a questa come si fa a valutare un buon mercato in cui muoverse allora intanto dipende in che eh settore tu desideri penso che in questo momento stai parlando di azienda agricola e qui già ti dico che non è che c'è un mercato è come il discorso del prodotto no non c'è un mercato in partenza che è sicuro dipende più che dal mercato in generale parlando più specificamente della nicchia del segmento di mercato che vuoi colpire cioè magari te vuoi vendere a ristoranti di lusso quindi a chef di lusso che quindi cucinano puntando alla qualità o magari invece che ai ristoranti il tuo target è le mamme perché vogliono dare da mangiare ai bambini ai propri figli dei prodotti di alta qualità cibi salutari quindi non persone che vadano a valutare un prodotto solo in base al prezzo e quindi vanno ad acquistare perché stai vendendo a un prezzo più basso ma perché stai vendendo un prodotto di alta qualità quindi non è che c'è un mercato preimpostato che dici ecco questo è il mercato vado per forza a vendere a quello cioè se te che vai in base ovviamente al prodotto che stai coltivando a definire il tuo mercato a ricercare il tuo mercato perché ovvio te puoi tra virgolette anche decidere perché dici ok sto coltivando ad esempio zafferano potrei dire tranquillamente lo butto lì fuori lo vendo a 10 euro al gramma andando a fare la guerra dei prezzi ovviamente sbagliatissimo in quel mondo andresti a trovare un segmento di mercato di persone che non sono altospendenti che comprano solo sulla base del prezzo e andresti ovviamente a perdere margini mentre potresti fare la stessa cosa quindi coltivare zafferano ma definire il tuo segmento di mercato ovvero un segmento di mercato altospendente come possono essere i chef di lusso e andare a vendere a quelli a 60-70 euro al gramma sì esatto Cesare è stato anche molto buono ti ha dato direttamente due nicchie estremamente profittevoli che sono le mamme che vogliono portare cibo buono per i propri figli e questa è una leva ovviamente potentissima e il mercato di ristorazione di lusso che è un mercato comunque molto interessante anche in crescita tendenzialmente al di là del discorso covid e via dicendo che ovviamente ha creato problemi alla ristorazione ma è un mercato comunque molto profittevole e quindi soprattutto ha detto la nicchia di mercato da cui partire poi da lì ci si espande ma perché se invece come diceva Cesare tu vai sul mercato di quelle persone che vogliono spendere poco tu praticamente stai cercando di applicare una strategia di marketing su un modello di business che ha sbagliato cosa significa che tu stai cercando di applicare una strategia di marketing con prezzi bassi ok per persone che vogliono spendere poco ma con un modello che non è quello da grande distribuzione perché tu non sei sicuramente una grande distribuzione e quindi questa differenza per esempio non la conoscono le persone ma se noi applichiamo uno strumento su un modello sbagliato lo strumento non funziona non è lo strumento in sé che non funziona ma è in quel caso su quel modello che non funziona quindi come si valuta un buon mercato in questo modo capendo che se siamo in piccola scala dobbiamo trovare un mercato disposto a darci tanti soldi e soprattutto ridarceli nel tempo e quindi in questo modo principalmente ciao ragazzi sto valutando di provare a recuperare alcuni appezzamenti di nocciole avete informazioni a riguardo mi piacerebbe capire per un impianto già già esistente credo non so c'è qualche errore già esistente possa ospitare una poi possa ospitare una tartufaia ok allora attenzione chiaramente non è che se ci sono dei noccioli allora significa che quei noccioli ti daranno dei tartufi perché la pianta da nocciolo è una pianta da tartufo devono essere micorrizzati a suo tempo cioè quando erano piccole non è che puoi micorrizzarle dopo le piante già grandi di nocciolo per esempio se ci sono un po' di noccioli poi e là e tu ci fai un'aggiunta di altre piante micorrizzate che prendi piccoline e che fai crescere allora questo qua mi sta bene in ogni caso la vedo lo vedo sicuramente un buon un buon mercato ma non sia quello del nocciolo che quello della tartufaia tartufaia soprattutto perché ce l'ho anch'io quindi se non credessi che fosse un ottimo mercato non ce l'avrei quello dei noccioli lo vedo bene anche quello se lo approcci noi principalmente le segue Antonio progetti sui sui noccioleti nella nostra azienda comunque e lui lo sa molto bene dal punto di vista agrotecnico dal punto di vista imprenditoriale le cose sono due o si sceglie un modello di noccioleto in larghissima scala o in larga scala insomma quindi ti parlo di ettari e ci sta ok ci può stare perché comunque i business plan sono profittevoli soprattutto sul medio lungo periodo ok dove si rivende a poco sì ma in grandi quantità e con una gestione non elevata quindi ci sta oppure questo è il modello uno ma in realtà io lo metto al due perché mi piace più l'altro modello che è il modello di mi faccio un noccioleto neanche tanto grande dove io mi faccio il mio brand per rivendere la mia nutella tra virgolette la mia cioccolata spalmabile per esempio che fa bene ti ho fatto un esempio con la cioccolata spalmabile proprio le nocciole si può fare tante cose allora quello è un modello che mi piace ancora di più perché si costruisce in qualcosa di molto molto duraturo molto molto stabile e sicuramente ben profittevole perché comunque poi una una crema di nocciole trasformata quindi le nocciole trasformate acquisiscono un valore importante quindi hanno molto margine netto yes poi avevo visto una domanda anche sopra come siete mostri per produrre le vostre tisane vi siete appoggiati da un laboratorio yes abbiamo scelto un laboratorio abbiamo fatto un po' di ricerca su laboratori che potessero farci le tisane ok in maniera molto semplice quindi una volta trovato che cosa abbiamo fatto ci siamo messi lì con il responsabile del laboratorio e gli abbiamo detto guarda noi cerchiamo una tisana anzi in quel caso sarebbe più corretto dire infuso perché sono infusi non vere e proprie tisane che abbia queste caratteristiche cioè cerchiamo noi avevamo fatto la strategia di marketing prima ci abbiamo detto vogliamo un infuso da vendere alle persone al mattino nel primo pomeriggio che possa dargli energia e poi da lì ci abbiamo ora ti faccio l'esempio della mindfulness e poi su quell'altro abbiamo ragionato in modo diverso ma sempre parlando della strategia perché di là ne abbiamo create tre invece con la mindfulness era soltanto una però il concetto è lo stesso quindi abbiamo fatto la strategia abbiamo detto vogliamo questa roba qua perché sappiamo di venderla a questo mercato qua quindi mercato di comunque anche persone benestanti che vogliono energia al mattino perché devono essere produttive perché comunque vogliono essere centrate via dicendo che hanno comunque quel poco tempo magari che hanno a disposizione lo vogliono utilizzare per star bene e via dicendo per acquisire energia per i momenti successivi della giornata quindi cercavamo un infuso di quel tipo e gli abbiamo detto l'ingrediente principale deve essere lo zafferano perché comunque lo zafferano ha ovviamente le proprietà necessarie a questo obiettivo che abbiamo però vogliamo metterlo insieme ad altre erbe che ci permettano di dare ancora più la capacità di dare energia a chi bevesse questi infusi e ci ha fatto delle prove delle proposte ha fatto delle ricette con altre erbe la prima che ci fece non ci piaceva alcune le avevamo scartate a prescindere la prima che ci fece poi veramente provata non ci piaceva e allora l'abbiamo un po' modificata ci ha aggiunsi chiesi di aggiungere la liquirizia perché comunque ha delle proprietà interessanti e soprattutto mi piace molto e quindi secondo me la liquirizia ci stava molto bene lui disse sì effettivamente ci sta perché poi era lui l'esperto da quel punto di vista abbiamo provato con la liquirizia mi piaceva in maniera eccezionale infatti la mindfulness è stata una bomba incredibile è andata via in un lampo e quindi abbiamo accettato la ricetta lui ci ha fatto poi tutto il mix di erbe loro lavorano tutto a mano il laboratorio è molto interessante ci ha fatto tutto il mix ce l'ha confezionata e gli abbiamo dato le etichette noi abbiamo fatto le etichette sulla base di quello che tramite una consulenza che abbiamo fatto ci hanno detto cosa andava scritto in etichetta e abbiamo gli abbiamo dato le etichette lui ha fatto il mix l'ha messo dentro ai avversettini l'ha etichettato ce l'ha ridato pronto e noi abbiamo fatto tutta la parte di marketing quali dei tuoi corsi consigli per chi vuole iniziare a guadagnare con l'agricoltura avendo già partita di Iva Agricole proprietario di 5 ettari di terreno sia semilativi che uliveto allora se vuoi andare veramente a bomba ti consiglio percorsi di affiancamento privati percorsi di consulenza dove o con Antonio o con me o con Cesare o con qualcuno della nostra azienda vieni in consulenza privata ti picchiamo in consulenza privata no scherzo però ti diciamo come funzionano le cose e ti diciamo cosa fare e tu devi soltanto applicarle più lì hai tutto un supporto chiaramente dei nostri consulenti eccetera eccetera sì per essere un attimo più preciso ovviamente funziona in questo modo così lo spiego meglio per chi non lo sa come funziona il percorso di affiancamento avete più consulenze quindi si parte da una prima consulenza dove c'è tutta diciamo una sorta di mappa diciamo di quello che si dovrà fare nel percorso quindi viene spiegata bene la tua situazione attuale lo spazio che hai quello che stai già coltivando i tuoi obiettivi le tue esigenze insomma tutte queste cose anche a livello di tempistiche che vuoi avere quindi in quanto tempo vuoi raggiungere un obiettivo che tempo vuoi dedicare alla tua attività eccetera eccetera dopo questa prima consulenza diciamo di partenza dove si va a stabilire la pianificazione vengono fatte altre consulenze dove si va poi a fare tutta la parte quindi di coltivazione di burocrazia se c'è bisogno tutta la parte di imprenditori a livello di finanze aziendali e personali tutta la parte di marketing per definire la strategia di vendita e ovviamente nel frattempo che c'è questo percorso consulenziale quindi che portiamo avanti le cose in consulenza ti vengono anche ovviamente dati dei percorsi videocorsi online che puoi studiare nel frattempo che fai le consulenze così che tu possa vedere le cose quindi arrivare preparate alle consulenze e tu possa vedere anche i passaggi proprio tecnici pratici per applicare quello che vediamo in consulenza quindi questo per spiegare bene l'affiancamento che hai citato esattamente oppure ti consiglio guida pratiche guida pratica alle strategie di vendita siamo così se non sbaglio un corso sul marketing molto verticale dove sono molto cattivo all'interno di quel corso ma è veramente eccezionale l'hai visto anche te e ti c'è anche la parte poi social mia insomma si va già sul roba molto importante lato marketing e vendita cioè quello vi cambia totalmente la vita dal punto di vista imprenditoriale vi dà proprio un cambio di paradigma incredibile sul mondo del marketing e vi dà proprio delle strategie e pratiche da applicare subito oppure vendita strategica che è un percorso ancora più grande dove si va a vedere tutta la parte poi di cross sell e up sell quindi faccio un prodotto ma cosa vendo insieme a questo prodotto cosa ripropongo al mio cliente quando come perché le mail eccetera eccetera lì c'è poi veramente il mondo quindi queste tre cose comunque ti consiglio poi dipende immagino anche se i 5 terreni che ha sono tutti coperti da oliveto se invece alcuni sono liberi e vuoi valutare altre coltivazioni quello che ti consiglio ovviamente è proprio per dare una spiegazione ben precisa contatta uno dei nostri consulenti che lo puoi fare o contattando l'800 150 010 oppure puoi scriverci nei messaggi su instagram oppure cliccare sul link che trovi nella bio e prenotare una consulenza totalmente gratuita che appunto serve per spiegare la tua situazione ad uno dei nostri consulenti così che uno dei nostri consulenti possa dirti in che modo è meglio proseguire per te se c'è bisogno di un affiancamento in un certo modo se c'è bisogno di alcuni percorsi apposta per i tuoi obiettivi eccetera eccetera anzi questo ti serve anche per non andare a fare acquisti che magari nella tua situazione non servono a nulla ecco quindi esatto ti serve in tutti e due modi sia per comprare la cosa migliore per te sia per non comprare quello che invece nella tua situazione magari non serve perché ho già l'hai fatto non hai bisogno di quello esatto next grazie la risposta è niente figurati poi vediamo qua se ci sono altre quanta gente eccoci qua buonasera oggi parlando con agricoltori di concime naturale già mi preoccupa dicevano dicevano che fa molto bene il limo che lascia il fiume quando esce nel mio caso diceva di prenderlo e usarlo nell'ort è vero ma c'è si può essere anche vero per l'amor di dio ma insomma mi sembra una cosa un po' borderline e insomma ci sono molte altre cose che puoi fare con molta meno inventiva strana e con molta più efficacia sicuramente quindi ci sta ma lascia perdere anzi più che altro fate attenzione a queste robe cioè non prendete consigli agronomici agrotecnici o soprattutto imprenditoriali da quello del consorzio quello che vende il concime quello che vende il concime deve vendere il concime e basta punto quello che vende le cose del consorzio deve vendere le cose del consorzio e basta invece danno consigli imprenditoriali non sapendo assolutamente niente o consigli agrotecnici che hanno sentito dire da qualcun altro e ve l'hanno ripetuti così senza analizzare il vostro terreno minimamente senza sapere di che stiamo parlando senza niente di niente senza sapere nello specifico quello che producete quindi se quello che vi sta facendo fare va bene lasciate perdere questa cosa veramente e formatevi seriamente ma ve lo dico col cuore non è che è vero perché ho visto persone fare degli errori drammatici per dare retta poi a queste robe qua sì sì ma come te lo fai nel tuo settore ognuno di noi l'ha fatto nel suo nel senso anche io per darvi anche uno spunto su quale era la mia esperienza all'inizio che magari mi ritrovavo a gestire quando mi occupavo della parte pubblicitaria facevo anche consulenze eccetera mi occupavo magari a gestire 7, 8, 10 mila euro al giorno di budget pubblicitario sui vari canali social e non andavo a prendere consigli da chi magari ne spendeva 100 al giorno se io ne stavo spendendo 100 volte di più capito se dovevo prendere consigli andavo da chi allora ne stava spendendo 20, 30 al giorno per andare su gente di di altro livello 20 mila dicevi ovviamente sì 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 al mese più che altro sì 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 al mese esatto quando sei partito te comunque ti ho messo in mano fin da subito vabbè che sei venuto dalla mia formazione principalmente più quella che ti ho messo in mano io e già quando partisti te spendevamo 4-500 euro 4-500 euro al giorno cioè non è banale investire questi soldi per un'azienda o fare per esempio come ha fatto Cesare quel lavoro lì e bisogna prendere informazioni chiaramente serie ma lo stessa cosa ora lì perché ci sono 4-500 euro al giorno che partono ma vale per tutto in agricoltura sì ma ci arrivi perché hai già validato un'azienda perché hai già validato che l'azienda funziona bene che sta vendendo bene che riesce a trovare il suo target quindi il suo mercato come dicevamo prima e quindi in quel caso sta semplicemente scalando non sta andando nel vuoto quindi dicendo investo vada spero di trovare qualcuno diciamo che risponda al mio messaggio ecco allora rispondo alle ultime due domande poi qua si è fatta l'una di notte quindi andremo a dormire se non si dorme mai cosa ne pensi dell'acqua ponica l'acqua ponica è sicuramente interessante ma non è la panacea di tutti i mali anche qui chiaramente c'è un'isporta l'acqua su tutti lo sapete quanti mi hanno proposto investimenti incredibili lasciate perla fatemi il favore di lasciar perdere crowdfunding strani costruite la vostra realtà stabile fatemelo per favore ve lo chiedo per favore perché vi fate male veramente su quelle robe lì quindi tornando a noi sapete quanti mi hanno proposto robe di acqua ponica idroponica incredibile super serre eccetera eccetera poi non so perché ho visto sempre questa figura dell'imprenditorino che si crede imprenditore perché vuole fare il super progettone con start up crowdfunding investimenti fondi finanziamenti dalle banche cose del genere avvocati e via dicendo che lo vedi con l'airpods all'orecchio che beve l'aperitivo con la giacca per dire che lui è l'imprenditore delle cose invece non ha mai fatto azienda non ha soldi a debiti lasciate perdere ok e spesso sono collegati all'occa ponica queste cose qua perché l'hanno fatta passare anche quella come ah chi coltiva in idroponica oggi si differenzia sul mercato e allora vende prodotti ragazzi le persone non acquistano i vostri prodotti perché sono coltivati in acqua o in terra non so se è chiaro questo il discorso dell'idroponica acquaponica è una cosa molto interessante non la utilizziamo anche nelle nostre coltivazioni in casa principalmente perché ci permette di differenziare il modo in cui noi ci autoproduciamo cibo principalmente poi uno vuole fare un'azienda basata su quello e via dicendo noi abbiamo visitato ora della roba qua a Dubai vi assicuro che di acquaponica e di idroponica qui sanno quello sanno quello che fanno sanno quello che dicono sono stato anche in Olanda nella parte dell'AIA e via dicendo e c'è della roba devastante considerate che l'Olanda è la seconda esportatrice di cibo al mondo e ha pochissima terra insomma è molto piccola chiaramente quindi vengono utilizzate per ottimizzare quella roba lì dove non c'è terra e via dicendo ma se uno ha terra e sa come coltivarla nella maniera corretta e via dicendo è meglio investire in quel modo perché si investe molti meno soldi perché si ottiene un prodotto di altissima qualità perché c'è meno robe da conoscere fare c'è meno chimica di mezzo non che ovviamente l'acquaponica si faccia con la chimica e basta anzi si può fare anche in maniera comunque molto naturale però ecco cosa ne penso ne penso che se uno ha vuole investire perché oh gli piace tantissimo l'acquaponica eccetera e vuole fare un grosso investimento e ha capitale io non farei mai un investimento per esempio con soldi della banca e basta e mi indebiterei a vita per fare un progetto di acquaponica abbastanza grande da darmi poi una rendita effettiva che poi mi serve per vivere quindi farei più come dicevo prima di affittare un terreno coltivare lì un minimo investimento per un grandissimo risultato e appunto e basta quindi sì penso bene però attenzione a non fare errori allora rispondo a Frank che ci chiede per acquistare un corso devo necessariamente parlare con un consulente diciamo che non è proprio necessario perché puoi anche scriverci qui su Instagram scriverci su Whatsapp insomma e chiedere il corso che vuoi la cosa come dicevo prima è quello che ti consiglio uno perché in questo momento siamo in offerta Black Friday c'è il capo dell'indipendenza quindi parlando con il consulente puoi arrivare a offerte migliori soprattutto se decidi di prendere più percorsi perché ogni tre percorsi che scegli ne hai uno in regalo quindi ne paghi solamente due ti faccio un esempio visto che ti ho consigliato guida pratica le strategie di vendita vendita strategica poi se non sbaglio faccio il mio livetro e quindi guida pratica le strategie di vendita te lo prenderesti gratis esatto e quindi questo e soprattutto seconda cosa come dicevo prima eviti di prendere magari un corso che per te non hai bisogno perché noi è una cosa proprio esatto che facciamo con ovviamente i nostri consulenti che poi fanno con i nostri clienti con le persone che diventano i nostri clienti è proprio dirgli chiaramente se c'è una situazione del genere guarda questo corso per te non ti serve è inutile che lo compri quindi evitiamo anche ovviamente spese inutili perché se il cliente poi non è contento noi non siamo contenti e quindi questo è anche bene è bene ribadirlo perché ovviamente se no le persone ci vedono comunque molto diretti molto verticali e vi dicendo allora insomma si immaginano ovviamente cose che non esistono in realtà la nostra etica è estremamente forte e abbiamo anche troppo a vedere esatto e abbiamo detto spesso e volentieri i nostri consulenti telefonici a delle persone no guarda erano lì praticamente avrebbero speso 3000 euro con noi e hanno detto no guarda questi per ora non ti servono parti da questo e assolutamente assolutamente perché noi vogliamo clienti soddisfatti perché poi clienti soddisfatti ci rilasciano testimonianze scritte video continuano a comprare perché effettivamente continuano a comprare perché sono contenti e quindi questo è il modo è l'unico modo per far funzionare il nostro business quindi far ottenere risultati alle persone oppure addirittura se invece uno pensa che non lo so non deve formarsi il nostro consulente è lì anche a farti capire perché poi uno sceglie quello che più vuole però ecco poi non so se c'è il link di vendita strategica c'è la sales per acquistare ora che appunto c'è l'offerta c'è tutto in mano proprio ai nostri consulenti che mandano il pdf proprio perché se no se vai nelle pagine che magari c'erano prima vai a comprare a prezzi più alti quindi non ti conviene c'è l'offerta del back credit ci sono sconti fino al 50% ecco quindi è veramente quello che ti consiglio di fare poi ovviamente valuta scrivici anche su Instagram su Whatsapp senza problemi come ha detto Cesare se no puoi scrivere su Whatsapp ti mandiamo il link consiglio per te perché alla fine è una chiamata che serve più a te che a noi ovviamente anzi noi ci perdiamo anche soldi perché poi dobbiamo pagare il consiglio esatto allora l'acqua ponica abbiamo risposto l'acqua ponica pecca nell'escludere milioni di anni di coevoluzione tra radice e suolo interessante il tuo pensiero allora va bene ragazzoni noi andiamo a letto che è tardissimo abbiamo risposto un bel po' di domande grazie mille e vediamo se riusciamo a farla un'altra domani la facciamo domani perché poi doma all'altro ripartiamo quindi non so se altre sei ore di volo poi avremo tempo per farle poi purtroppo ma ancora per poco tornerò a casa dove non ho una connessione internet fantastica e non mi riesce purtroppo spesso fare grandi dirette ma la situazione sta cambiando a gennaio te ne vai via come abbiamo anticipato a gennaio scena andiamo aumentiamo il nostro livello di indipendenza che male non fa vista la situazione strana che stiamo vivendo e sarà veramente non vedo l'ora non vedo l'ora siamo estremamente eccitati con Vale per questo trasferimento scoprirete tutto nelle prossime puntate per adesso vi salutiamo è stato un grandissimo piacere vi voglio bene formatevi costruite la vostra indipendenza e mandate a cagare tutti quelli che vi vogliono tenere a terra buonasera da tutti ciao ragazzi